Il cantante ha registrato il suo cameo, insieme alla moglie e alla figlia, in occasione delle riprese effettuate in Italia a maggio stiamo parlando di Andrea Bocelli, protagonista con moglie Veronica Berti e l'undicenne più piccola, Virginia, in un cameo che sarà inserito nell'ultima delle puntate registrate lo scorso maggio a Roma, dove la soap più seguita del mondo è atterrato per prima volta in 36 anni. Bello parla quindi sempre più italiano. Dopo la partecipazione di Ginevra Lamborghini e Yasmin Carrisi, è arrivato anche il cameo di Bocelli. Nella scena che lo vede guest star, il tenore, seduto al pianoforte affiancato dalla moglie e dalla figlia, canterà la sua celebre canzone a Peter Brookridge, alias Catering Kelly Lang Thorsten Kiley. Vera e propria icona italiana nel mondo, Bocelli solo pochi mesi fa è entrato a far parte anche della storica Serie 1 Simpson. Su CBS la puntata che lo vede protagonista con la sua famiglia andrà inunda lunedì 26 giugno. I telespettatori italiani la vedranno su Canale 5 nella primavera del 2024. La pluripremiata sopra, in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 13 e 40 pm, ha un seguito incredibile 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi del mondo. Negli USA i sei episodi girati a Roma dove sono affrodati sette protagonisti Ridge Group Steffi Carter o Pliam e Thomas andrà in onda dal 16 al 23 giugno. Negli Stati Uniti, Beautiful è giunto alla sua 36esima stagione. Grazie. Grazie. Grazie.